Fino al 12 novembre, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Via Arsenale a Torino, è visibile la mostra To Create, scenografie emergenti, un viaggio ideale nella creatività e nell'estro, con disegni, bozzetti, foto e video di prodotti scenografici adattati alle nuove esigenze di mercato. In mostra fino al 30 novembre alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, cabiria i 100 anni del mito, realizzata dal Consiglio regionale in collaborazione con la Biblioteca Universitaria, il Museo del Cinema e la Sartoria dei Valle. L'esposizione celebra il centenario della pellicola del regista astigiano Giovanni Pastrone. Uniformi e strumenti chirurgici da campo della prima metà del Novecento e numerosi presidi medici d'emergenza, sia civili che militari, in esposizione per celebrare i 150 anni della Croce Rossa italiana, fino al 26 novembre presso la Biblioteca della Regione Piemonte. Fino al 3 dicembre a Palazzo Lascaris, la mostra Matite di guerra, satire e propaganda in Europa 1914-1918. Promossa dal Consiglio regionale della consulta europea e curata dal vignettista torinese Dino Aloi e raccoglie un centinaio di pezzi tra giornali di trincea, disegni, libri e tavole originali. Ingresso libero da lunedì a venerdì.